E' stata ufficialmente posta sotto sequestro l'aria nella quale nella tarda mattinata di ieri ad Amalfi una colata di detriti e terreno è venuta giù dal costone roccioso precipitando in mare per fortuna senza danni a persone. Ora saranno i carabinieri di Amalfi guidati dal comandante Umberto D'Angelo Antonio ad effettuare un'indagine sui motivi che hanno causato il cedimento del terreno. Si guarda dei lavori effettuati in prossimità del punto di frana non prima però che uno sopralluogo di ANAS, vigili del fuoco e tecnici comunali valuti la stabilità del tratto di strada interessato dal movimento franoso. Anche oggi una delle due careggiate della strada statale 163 resta chiusa e si viaggia su un piccolo tratto di una cinquantina di metri a senso unico alternato. Solo pochi mesi fa Amalfi aveva definitivamente chiusa la ferita aperta il 2 febbraio dello scorso anno quando dall'area della Vagliendola una frana spezzò in due la principale arteria di collegamento tra i centri della Divina. Anche in quel caso la fortuna salvò la capitale della costiera amalfitana da un bilancio che poteva essere tragico. In quest'ultimo episodio anche sul piano dell'immagine Amalfi esce indenne vittoriosa dalla tre giorni dedicata alla regata delle antiche repubbliche marinare. Grazie. 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 Grazie.